Per la terza giornata di ritorno del campionato regionale di C1 di Futsal, lo Sporting Campobasso supera alla palestra Sturzo 4-1 la polisportiva Boiano. Una bella gara soprattutto nel primo tempo, nella ripresa. L'esperienza dei campobassani indirizza l'incontro. Per problemi tecnici alla nostra telecamera non possiamo mostrarvi il gol del vantaggio messo a segno da Mascia. Gol realizzato dal Boiano che si porta sull'1-0 dopo sette minuti di gioco. Partiamo con le immagini dal pareggio dello Sporting. Corner di Cadeo, deviazione involontaria di Di Camillo che fa autorete. Siamo sull'1-1. Il Boiano non ci sta e torna avanti. Pietrangelo per Monaco, destro basso. Madonna chiude nel migliore dei modi. L'episodio decisivo avviene al diciassettesimo. Va via Pappalardi. Colalillo lo stende secondo il direttore di gara e cartellino rosso diretto per il portiere Matesino. Il Boiano è in inferiorità numerica. Entra il portiere Di Palo dalla punizione seguente. Cadeo per Pappalardi. Lo Sporting si porta sul 2-1. Nel finale di tempo il calcio piazzato da parte di Delia. Di Palo risponde nel migliore dei modi. Passiamo alla ripresa. Subito il lancio di Madonna. Di Palo esce male. Ciafardini sfiora la sfera di testa. Il gol è valido. Siamo sul 3-1. Successivamente lo Sporting la chiude. Pappalardi, lob per Cornacchione. Altro tocco sotto che vale il 4-1. Lo stesso Pappalardi, capitano dello Sporting. Spunto destro secco. Il Palo li nega la doppietta personale. Il Boiano non ci sta e a testa bassa cerca di rientrare in partita. Ricci per Pietrangelo. Destro basso. Madonna chiude con i piedi. Vogliamo poi segnalare al 24esimo il bellissimo gesto di fair play da parte del capitano Matesino. Damiano c'è Oriente a terra. L'occasione è pericolosa. Ma Damiano mette il pallone in fallo laterale tra gli applausi dello Sturzo. Nell'ultima occasione lancio profondo di Oriente per Pappalardi che cerca il gol del 5-1. Ma l'occasione sfuma. Lo Sporting torna in vetta da solo con un più 3 sul Boiano e con una gara in meno da giocare. I Campobassani sono già proiettati a chiudere al primo posto il Girone B e presentarsi nel migliore dei modi ai playoff.